...la giornale, l'importante è sentirsi, edo. Poi, questi ragazzi qui, KN Grinico, ECO X3Kg, un po' pure migliore, insomma, ci dedichiamo al DX. E quando usciamo su questo cozzurro di frequenzio... ...in attivo addirittura con due watt, con un po' di amici della zona 6, a fare zona 6, la Sardegna addirittura, un watt modulato, due di picco, roba eccezionale, è bello. Sono caduta e guarda che brutto finito, anche a me, ma non mi aspetto rapidamente. In farmacia mi hanno dato Ketosil, un trattamento innovativo contro i microbi. Ketosil forma una barriera antinicrobica per una rigenerazione cutanea. Rapida, Ketosil è un dispositivo medico, leggere attentamente le avvertenze. ... 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